E' la prima volta che giochiamo in questa mappa Quindi sarà difficilissimo per me Uh la revenge quella mi piace Vabbè questa voi Mortesto dove cazzo sei? Ti ho visto Bella Mi sei passato proprio Mi sei passato nel mirino Tipo con la faccia nel mirino Non ho resistito e ho sparato Ragazzi sto per diventare invisibile Invisibile ragazzi invisibile Che cosa non offre questo gioco? Una cosa incredibile No merda Però mi cambia la visuale Cioè mi cambia la visuale che non posso No sono stato io Bastardo veramente Che bastardo Mi ha invertito la visuale Che bastardo Ma quanto è figo sto gioco Mamma Non ti vedo però eh Ricordo che queste mappe ragazzi Sono fatte per Il quattro contro quattro E non per il Beh grazie che non mi vedi Sono invisibile No Ma che invisibile Invisibile che ti vedo No adesso Adesso no Ma poco fa ero invisibile Poi ti guardi il video Ahia Si era camperato E bastardo No Stavo cercando di recuperare Un pizzico di video Eh bastava scappare Andiamo un po' in giro Per la mappa Saliamo un po' Che stiamo da mezz'ora Lì sotto Le mappe sono veramente belle Spettacolari e grandi Ah qua sta Operiamo anche noi Un po' di vinta Si Bella Mi cazzo è andato Wow Mi sono oltre trasportato Ok prendiamo sempre Oh ma è ottimizzato Proprio bene il gioco Mamma mia Seconda Ho detto Ho ottimizzato Veramente bene il gioco Sto con fraps Non mi sta dando problema Si Certo non è proprio 30 fissi Ma neanche te ne accorgi Perché il gioco è Veramente frenetico Scendiamo giù Sennò questo Non lo troviamo giù Eh io zupi Eh io stavo a selezionare Mannaggia Da potenziamento Ricopriamo un po' di armatura La vita sta bene Ma l'armatura Andato? Si Giusto? Si Ricordo ragazzi Perché poi magari Evitate di scrivere commenti Se per esempio Facciamo fatica a trovarci Perché le mappe comunque Sono per 4 contro 4 O addirittura di più Adesso non so Comunque di solito 4 contro 4 E quindi siamo 2 contro 2 Su questa mappa qua Oddio quell'arco Bella Bella star ma mi piace tantissimo C'ho le munizioni infinite Ecco perché Dico non mi Approfiggiamone ora Che non ha armi Adesso la raccolta Questa Ahia mi sono fatto male Cioè guardate che frenesia Mentre facevo un salto di 10 km Ci stavamo sparando Cioè cosa si Cosa si può voler più Da questo gioco Cioè E' un orgasmo Sto gioco ragazzi Un orgasmo E se non vi piace Sono Gnocazzi I vostri Giusto Giusto Comunque ripeto Non è scarso Mortis Che comunque io ho avuto esperienza E lui no Con questi giochi Dov'è Mortis Se vedete La maggior parte delle volte Non sparo neanche su di lui Sparo a terra Per fargli il danno E' un orgasmo Ecco bella Mortis Stavolta muori 7-1 Mi sei affaffato 10-1 L'altro po' 10-1 Vediamo di trovare un'arma Siamo senza arma Porta la miseria Bella E che arma Il lancio è patato E che Quanto l'odio Quell'arma Sì Non la stavo utilizzando proprio Prima ho utilizzato altre armi Eh lo so Eh ora ho trovato l'electro Che è la mia verterina Sì ma l'altra Mi cazzo mi ha sparato Ho perso Oh merda What the fuck Merda di nuovo 3 minuti e mezzo 3 minuti e mezzo 3 minuti e mezzo Madonna che volo No ma Cristo Sono caduto Veramente? Triple armor Cioè l'armatura tripla Bisogna imparare A respon degli oggetti Delle armi Delle armature Bisogna imparare tutto Su quest'arma Cioè su questo gioco Se si vuole Avere il dominio Della mappa E quindi fare le clamore E vincere È un gioco Non semplice Non adatto a tutti Quindi ve lo sconsiglio Se non siete pratici di questi giochi O comunque non vi piace Perché anche se non siete pratici Potete imparare Non è che ci vuole altro Cioè guardate Cioè guardate me Bisogna stare attenti con quest'arma Perché i proiettili Sì anch'io I proiettili tornano indietro E infatti mi sono quasi killato da solo E i proiettili di quest'arma rimbalzano Mi sono fatto anche sempre di danno Difficile da usare Le scuse No no ma anche tu eh Tranquilli Ti curati ma va Merda volevo fare una cosa Del mio Ho visto qualcosa che Sparavo No io non ho preso slick Merda Mi ha dato le slick Ma no ma che cazzo Io volevo Volevo lo shotgun Paolo Faffanculo Ma dai ma che è sta cosa Le scarpe scivolose Che brutte Ma questo non è un potenziamento Questo è un danno Mi sono danneggiato da solo Ma dai Ma non è giusto Mi ha messo tipo la merda Sotto le scarpe Tutte e due l'avevamo Che schifo Ce l'ho ancora io Guarda che scivolate che mi faccio Eeeh Non riesco neanche a prendere il teletrasporto Meno male che è finita Oh Ale Via via ragazzi Via Sono senza armi Senza vita Senza sfido Senza niente Dove sei morto? Eccoti Sì Andata Che culo Stavo alle strette proprio Stavo Stavo prendendo di santa ragione Le morte si è ingranate Insomma Dai In granate In granate ragazzi Eh sì Vuole un po' di pazienza Sì sì ma è questione di tempo Sì sì ma è questione di tempo Vedi già i risultati 8-4 Ragazzi Votate e commentate anche questa partita Spero vi sia Vi sia Vi sia divertito Noi sì Di sicuro Le altre mappe sicuramente le rilasciano al 10 maggio Al rilancio del gioco Insomma Sì sì ma infatti Non sono troppo questo Vabbè visto che abbiamo fatto tutte le mappe Direi basta con i video E le mandiamo il 10 insomma Quindi un saluto Sì sì Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale di Mortis Ciao 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 ciao